Melody Nesingol al quarto angolo di Shuriak e nuca di Gerolino in quel momento non sono pensato su Fischi, sono pensato che andava a campo con la responsabilità di substituire un compagno che si è fatto male, alla fine il gol dopo il gol, in quel momento lì dopo il gol, sono creduto che il Poder Romano che vim tirare la partita